Eccoci sul DOS del Merler, pronti per una partitina con elementi naturali come facevano i nonni. Un legnetto, una pigna, anche una partita veloce con tre. Il Merler è un gioco molto antico. Lo si trova scolpito su pietra del 1400 a.C. ed è diffuso in tutto il mondo con nomi diversi naturalmente. In Italia è conosciuto col nome di Tria o Filetto e si trova spesso dietro la scacchiera di Dama. Si gioca con nove pedine, ma noi qui facciamo la partita rapida con tre. Altre tavole da Tria scolpite sulla roccia si trovano in valle all'Asino. Un'occasione è questa per muoversi sul territorio mentre si passeggia a cercare oggetti naturali che siano sassi, fiori, pigne, nocciole, qualsiasi cosa, bacche, da poi utilizzare giocando e divertendosi, magari con i bambini. Ai, Molinel, posso fermare questo, ma non questo, Tria! Ma dove si trova il merler? Sul d'as del merler, ovvio, no? Dove se no? Proprio a Tiago. Anzi, nei dintorni di Tiago. Anzi, nei dintorni di Tiago.